Videobox presenta Palio Super Segreto I personaggi che non conoscerete mai Palio Super Segreto Palio Super Segreto Capo, basta Perché? Fai schifo Hai ragione ma È mezz'ora Se bisogna pallino Tra un cliente Non mi dispiace ma voglio entra a piazza Come fai? Ma devi andare a Pian del Lago No Come? A Pian del Lago deve andare? Eh Ma no, a che dire? Fai schifo Fai schifo Fai schifo Ma hai ragione ma E che fu? Un solo perché non so suonare Mi vuoi di allenare? No, ma che non l'hai preso scena Abbiamo qui un tamburino che vista l'età Nel media che abbiamo riscoltato stasera È uno dei più vecchi ad allenarsi Beh sì, in effetti da molti anni mi sto allenando Mi sto allenando molto duramente Anche se gli effetti non è che abbia ottenuto risultati eccellenti Le prospettive di entrare in piazza A quanto ho capito sono presso che nulle Come vivi con questo sapendo che non hai praticamente prospettive? Beh, in effetti è una cosa molto difficile da spiegare Però io spero che un giorno o l'altro potranno farmi entrare per compassione Un giorno o l'altro significa verso 60-70 anni Perché ho visto che la concorrenza è spietata Un giorno o l'altro penso La concorrenza è veramente spietata Non ti danno a tagliare le gambe agli avversari Comunque ammirevole vedere che non ti arrendi eh Beh, non mi arrendo Mi alleno tutti i giorni duramente Dalla mattina alla sera Praticamente il tuo unico momento di gloria nell'anno Unico momento di soddisfazione di gloria È il giro È il giro Perché sei il tamburino da giro Il classico figura è il tamburino minore da giro Certamente Certamente E qui lì hai tutta la tua La mia soddisfazione e la mia gioia Anche perché suonando in gruppo Non si sente il tuo tamburino Non si sente il tuo tamburino E quando ti apri una stecca viene grossomodo coperto Non viene coperta dal resto il tamburino Senti ma i tuoi maestri sono all'altezza della situazione? Beh i miei maestri sicuramente sono all'altezza della situazione E sono io che non sono all'altezza della situazione E quando vedono i stecchi come abbiamo sentito poco fa cosa fanno? Beh vorrebbero fogliarmi il tamburino A volte fai al sarto sulla testa A volte fai al sarto sulla testa A volte fai al sarto sulla testa Va bene ti ringrazio e non ti arrendere Cerca sempre di dare il meglio di te stesso Va bene Guarda come ti fai finito Ci vai a Pian del Lago Se no questi cittini mi disimparano Se no ma come a Pian del Lago Ma mi voglio allenare anche io Ho capito ma a me a tutti si può allenare per entrare a piazza Se no allora entra anche io in ruina Ma io voglio dire che m'allero sempre tutti i giorni Eh lo so lo so Guarda la ragione con te so con tanta pazienza Però guarda va a Pian del Lago Non ci vieni più Perché se no cittini viene un effetto Grazie Mi spiace ma come fa? Allora andrò via anche dopo Voi a Pian del Lago allenare Poveranto sto dietro Ciao ragazzi Ciao Olè 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 Olè